pronto si cosa vuole la giacchetta della fondazione carnevale che c'è il presidente santini ma che taglia c'ha signora no 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 signora no extra 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 largi no ha visto santini è tutto fa corsa fa footing no mi dispiace è un'altra taglia ci vuole si pronto chi c'è un'altra telefonata pronto ragazzi che siete ragazzi omni che siete voi caporali non so che siamo siamo non la meme io vi volevo far complimenti perché sono sicura che vi chiama nimo per farvi quelli vabbè ma qualcuno chiama insomma bravi mi carvate tanto siete dei bei giovanotti sapete far il vostro mestiere grazie ma dove ci chiama signora e io sono di riba eh non la sai medesco io arrivo ho dovuto fare di qui e qua veramente per vedervi bimbi ma ora si vede si vede ora si vede bene che dio meno male meno male signora ma com'è la temperatura lì non vuole mica una giacchetta anche lei eh già del freddo bimbi anzi se ve la ce l'aveste quella giacchetta ho visto bella che dio ma dove si compra no non si compra la regala il presidente santini allora se lo mangio mica al banco di più ecco ma lei la guarda la televisione si la guardo però non è più la televisione di una volta bimbi una volta sul primo e davino come si chiamano quello che è più grosso e più corto staglie olio mi garbavano quelli sul 5 gaspar e zuzzurro ma ora non ce n'è più come non ce n'è più ne fanno più di stampini così ma ce n'è ce n'è ce n'è gaspar e zuzzurro vuole eccoli qua eccoli qua eccoli qua perché perché al carnevale di viareggio perché ci hanno promesso la giacca che avete prima visto del carnevale di viareggio c'è stato detto che se venivamo ospiti avevamo anche noi la giacca a quei gradi e allora noi ci teniamo un sacco ad averla perché non l'hanno mai data nessuno ed è il motivo per cui la daranno a noi ma Emanuele Filiberto gliel'hai data lo scorso anno? ce l'aveva no 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 scusa cosa no 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 hai detto che hai dato la giacchetta a Emanuele Filiberto l'anno scorso e anche quest'anno hai detto gliela dà? ah quest'anno torna! quando torna? no 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 perché a me è simpatico no? a me è molto simpatico non lo conosce ecco perché gli è simpatico no è simpaticissimo no 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 ma viene a pulire i cesi no 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 deve spurgare delle foglie io a casa mia ho la foglie intasata di conseguenza gli darò gli darò a me è simpatico salutiamo Emanuele Filiberto ciao Filiberto ciao Emi è un miscarnevale ma com'è Emi? ma non sapevo che Filiberto non sapevo che eri un trans ma che è un trans? eh lo chiama Emi ma hai visto la moglie che c'ha una yapa da what you do in Nilo che fa anche lo strip e infatti se hai messo di fianco il modello voglio diventare come lei ma non è vero dai non è vero mente sapendo di mentire il carnevale di Vareggia è la prima volta che venite? no no non è vero che abbiamo un'altra giacca però di tanti anni fa 25 anni fa siamo venuti a fare lo spettacolo qua per il carnevale cosa è del carnevale che vi piace? la giacca del presidente ma al di là della giacca del presidente non c'è niente altro no no ci hanno fatto vedere la cittadina del carnevale che non sapevamo neanche esistesse e siamo rimasti un attimo scioccati perché veramente è una fabbrica del Duomo è bellissima da vedere speriamo che non sia una fabbrica del Duomo non l'hanno ancora finito il Duomo speriamo che facciano prima io non ho dei bambini ma se avessi dei figli li porterei qua secondo me si divertono più che alle giostre io infatti ho dei figli e non gli dico che sono venuto qua se no si incazzano sicuramente potrebbero essere gelosi senza dubbio presidente Alessandro se avesse una giacchetta anche per i miei figli non si preoccupi perché la portano volentieri anche loro che cos'è che secondo voi è fuori corso? una cosa completamente fuori di testa? fuori testa o fuori corso? fuori corso e fuori testa? tutte e due fuori di testa è l'Italia fuori corso che cos'è? fuori corso siamo noi noi? noi siamo fuori corso perché facciamo i comici da talmente tanti anni che ormai siamo fuori corso sul serio una cosa è sicura il carnevale di Viareggio quest'anno sarà bellissimo e sarà freddo maiale porco schifido questo sta scritto per chi non ha la giacchettina per gli altri che staranno al caldo gliela tagli adesso scusate dobbiamo tagliare la giacchetta del presidente ovvero èяхitare la giacchetta del presidente citato e poi ci base for Shawó Anna